Nel giro di tre mesi, e lo dico davanti a tutti in televisione, ho delle situazioni che si sbloccano, nel senso che diamo delle risposte alla città, diversamente ci salutiamo e vorrà dire che questa è una città che è una maledizione. Lo ha detto ieri nella rubrica del mercoledì, un occhio per tutti, il consigliere comunale del PD Bruno Di Masci, a proposito del nuovo esecutivo comunale, nato dall'accordo tra i civici Gero Solimiani e Partito Democratico. Di Masci si è confrontato in un lungo e appassionato dibattito televisivo con il capogruppo di Avanti Sulmona Fabio Pingue, che aveva aperto la crisi a Palazzo San Francesco dove aver abbandonato la coalizione civica noi per Sulmona, provocando le dimissioni in giunta dell'ex assessore Antonio Angelone. L'ex sindaco e consigliere PD non ci sta a sentir parlare di giunta Cassini Di Masci. Io non ho partecipato nemmeno alle trattative, il sindaco e la dottoressa Cassini, e quella che si è formata non è una maggioranza organica. Noi abbiamo dato un appoggio perché Sulmona non merita una lunga gestione commissariale, interviene il professore che parla di giunta a termine, trovando quella definizione che nessuno riusciva a dare. La verifica quindi scatterà già l'indomani delle elezioni europee del prossimo maggio, e in caso di esito negativo la durata di un'eventuale gestione commissariale cambierebbe di poco, ma Di Masci un tentativo lo vuole fare, si dice fiducioso. Come pure aspetta con ansia, la riunione urgente è convocata dai vertici regionali e provinciali del partito per discutere del caso Sulmona. Un appoggio fondatore del partito è stato sempre maltrattato e sono rimasto sempre nel partito. Ma forse qualcuno dimentica che gli stessi che adesso starnazzano sono quelli che sono venuti a Sulmona, ci hanno tolto il simbolo. Dimenticano, hanno appoggiato la loro maggioranza e hanno appoggiato il consigliere regionale Andrea Gerosolmo. A noi ci hanno tolto il simbolo, a noi ci hanno commissariato la sezione. Ricominciamo da capo, ma che lo facessero? Ma che mi interessa? Non mi interessa, lo auspico. Che lo facessero? Se sono idioti, se sono idioti, se non hanno buon senso, io non posso farci nulla di fronte all'idiozia. Ovviamente questa è una tua affermazione. Sull'idiozia del PD ci sarebbero capiti. Che lo facessero? Che non hanno buon senso? Che lo facessero? Così ha concluso Dimasci, non senza rimarcare che a prescindere dagli eventuali provvedimenti che verranno presi, non verrà meno l'appoggio del PD alla neonata giunta comunale.